Jace Mane! E se questo è il game che vuoi vedere di Jace, è quello corretto, perché sono un pro player. Chiaro, chiaramente. Il King è entrato in live! Posso farne una kill? Non le posso fare le kill, apparentemente. Ciao Emanuele, buonasera, come stai? Perdonami, oh mio Dio. E niente, io faccio gli assist. Assist. E vai. Sto arrivando. Cacchio di disfaito, malefico. Ragazzi, stiamo scherzando? Sì. Let's go. Finalmente. Finalmente! Le mie kill con Jace! Che cazzo! E vai. Buon mid lane da potersi vedere. Non lo so, onestamente. Non li guardo. Yes! Andiamo, prendiamo anche questo. Prendiamo anche questo. Prendiamo anche questo. Prendiamo anche questo. No! Peccato. Speravo di prenderla così e fare tipo flex guy. Per ora almeno, eh. Poi... Uhuuu! Perfetto. Andata. No! Peccato, peccato. Al comparto delle... Delle... Sono sovrumano. Iiii! Vai. Oh! Porco cane! Vai, vai, vai. Uh! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Uh! Uh! Boom, boom, boom! Baby, baby! Yes! Bring down the hammer! Uh-oh! Hello! No! No, 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 no. No! Quella mi ha tradito, eh, Zerialo! Iiii! Presa. Uh-oh! Uh-oh! Come on! Come on! Who wants my little... Little... Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Mi serve Singed, ragazzi. Mi serve Singed. Altrimenti qui non posso fare pelatino. Ando aiutare top. Ce lo faccio in tempo, 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 faccio in tempo. Non lo so se faccio in tempo, Deasu. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, no, no, no. Bruciamo sto coso? Ah-ah! Let's go, Darko. Ciao, trollout. Ho preso io il barone Nashor. Boom, baby! Il 18 dicembre è altamente probabile, signorina, altamente probabile. Ok, vai, avertro danno, ma che me frega, metà roba difensiva, let's go! Grazie, grazie, Ciola, veramente. Tanta roba. Ciola! Arrivo! Arrivo! Pipidi, popidi! Woo! Hola! Eseri, alo! Si faccio tirare un'altra pallina in fascia. Bonk. Come on, come on, come on, come on. Bonk. Ragazzi, la devo andare in base, mo. Sto a posto? Non? E se questo è il game che vuoi vedere di Jace, è quello corretto, perché sono un pro player. Chiaro? Chiaramente. Ah-ah-ah! Eh-eh-eh. Ah-ah-ah! 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 Ah-ah-ah!